Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Aglio e il Bivio con la variante del Valico in direzione Roma. Spostiamoci in a 12 dove a causa di un veicolo in avaria si registrano code tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. In Fipili invece a causa di lavori 4 chilometri di coda tra Scandice e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e un chilometro di coda invece tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Da segnalare a causa del traffico intenso anche code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Cantieri di Firenze domani 22 maggio in orario 9.19 a causa di lavori verrà chiusa via del Moro nel tratto via delle Belle Donne via del Sole. E per il momento è tutto muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!